Sono oramai terminati i lavori di ricostruzione e rigenerazione della costa nord di Alba Adriatica. Manca solo la comunicazione ufficiale della conclusione degli interventi da parte dell'azienda alla regione per poter avviare la riorganizzazione dell'ombreggio nella zona interessata dal ripascimento. Nel frattempo l'assessore comunale Nicolino Colonnelli ha incontrato tutte le sigle del settore turistico alberghiero, proponendo loro due opzioni, o l'ampliamento degli ombreggi dalla Bambinopoli fino al tratto di spiaggia fra le Hawaii e il Faro oppure dallo stabilimento Stella d'Oro fino allo stesso tratto litoraneo. Ma sulle due possibilità c'è stata una divisione, alcuni rappresentanti prediligono la prima soluzione, mentre altri optano per la seconda. Potremmo dare un giudizio sul risultato una volta che vedremo tutta la documentazione, anche perché ci vogliono competenze specifiche per dare un giudizio su un intervento che è stato fatto, anche se ad occhio un'idea noi ce la stiamo facendo, però è giusto aspettare la riconsegna dei lavori. Sicuramente ad occhio sembra che la realizzazione di questa spiaggia dell'alimentazione non sia esattamente quella che era prevista nel progetto. Le motivazioni ci saranno spiegate, presumo ci saranno delle motivazioni specifiche, aspettiamo appunto la conseguenza di questa riconsegna dei lavori. Nel frattempo noi ci siamo premurati a sentire gli operatori turistici, perché ancorché ci sia stato un intervento di ripascimento importante in alcune zone del nord, ci sono strutture che hanno una percentuale di erosione sempre piuttosto alta, quindi ritenevamo giusto dare ristoro a queste attività commerciali e abbiamo convocato tutte le sigle degli operatori presso l'ufficio del Consiglio Comunale, abbiamo analizzato con loro le varie possibilità che ci sono d'ampliamento, le abbiamo sottoposte alla loro verifica e diciamo che lì al momento ci sono state due posizioni diverse tra le varie associazioni, ma contestualmente erano d'accordo che l'intervento andava fatto. Quindi abbiamo preso atto della volontà della maggioranza di queste attività e stiamo predisponendo un piano di ristoro per le varie attività che a breve sarà messo a loro disposizione.